Ed ecco voi, un Daniele Mondora No, è davvero lui, è sulla mezza con la maschera No, ma niente, spezzone extra Ciao Daniele No, sono bianco Sono bianco No In centrale con la maschera di penne No, ma tranquilli, no, ma io non sono un pazzo Oddio Raga, ci stanno guardando tutti malissimo Tutti pure il carabiniere ci sta guardando male Tanto perché il Daniele è in giro così No, aspetta Vai, 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 vai Daniele Vuoi dirmi che dobbiamo fare tutte queste scale a piedi? O che vuoi farlo ben genitorio alla preside? Piano, c'è di c'è di c'è di pennello Stiamo consultando il treno Io sono un segno ancora penale Gate A Uscita A Adesso andiamo là, lo vediamo Eh, noi andiamo là, lo vediamo E ci guarda malissimo Ci guardano malissimo Davvero, Paolo ci stanno guardando malissimo Non c'è di un agente contento Fagli vedere cosa compiare Allora, qua c'è la camera di Marco Allora, Paolo Aspetta, sta facendo un video Allora Dai, vieni qua il secondo Allora, c'è Qua è la firma di Marco Scrooge Questo agium Non si legge un corno Poi qua ha preso Ho fatto tre ore, due ore e mezza di fila Per vedere un trailer di fallout No, è appunto Di fallout che è lo stesso di YouTube È un trailer delle tre più dieci secondi E' un cinematic trailer Ah, uuuuh Fanculo Non si è sentito un cordo, ci scommette Vuoi, vuoi che non Fanculo Cioè, mettono tipo Sti cartelloni qua pubblicitari In mezzo al tutto Eh, ma non sono brutti No, non sono brutti, però Non so come un po' d'oro Anche questi qua che mettono quelli del No, questi della band è più Ha più senso Guardatelo È propaganda Mondora è davvero in giro così Qua c'è il monopolio Paolo, non guardare Non guardare Guardate Scusate Devo spegnere la La videocamera perché C'è la gente che mi volto Perché sì Complimenti Complimenti Sì Ale ma si devi fermare Un po' che vuoi Le fatti Sì Andiamo A due Ale Buongiorno Quanti musacchi Così le fai Sì Buongiorno Buongiorno Ci guardano malissimo le persone Dio Vai 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 Scusate Buongiorno Buongiorno Oddio Buongiorno 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 Ci sono le persone che ci hanno Guardato malissimo Del tipo come se noi Stossimo in giro Era semplicemente in giro Con sta maschera alla fine Vabbè Ciao D'oggi è tutto Va su internet Non si blocca ma Buongiorno Grazie a tutti